bella a tutti ragazzi quel papà quello magico e oggi granny giocheremo con granny e il nonno non si è mai giocato lasciamo tutto questo come sto già e andiamo c'è un giocatore c'è un giocatore belletto c'è un giocatore 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 Tornassi Niovi Non, 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 qua finiamo in giorni e poi metto prima granny. Faccio il dive. Ho messo un altro, ma l'ho fatto. Scusate, non parlo mai. Sono concentrato. Faccio del... Croni! 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 Come non mi ha visto! Maledetta granny! Che figo! Croni! 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 Non, non! Vissà che posso... mamma mia no adesso mettiamo solo una poi al terzo episodio già mi dà fastidio questo sangue ho un piano mamma mia mamma mia vieni qua vieni qua adesso mettiamo solo a granny vabbè sta proprio visita però dove mette che ci è messo poco con la prima vista le faccio la trappola vieni qua Grazie a tutti No I'm going to go I'm going to go It's gonna go Let's go I'm going to go Let's go I'm going to go Con Granny deve essere più facile, con il nonno è difficile perché si riesce a scocciare più ed è più forte ed è più veloce. Non fa giorno una con Granny. Devo riprendere il vaso, Granny facciamo un patto, se tu non mi fai scappare, io non ti faccio niente, se non mi fai scappare. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti 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 Non sto Grazie a tutti 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 Grazie a tutti